SONO DI FRONTE Questa runa angelica è pienamente meritata, ed era attesa da tempo. Non sei più una Shadow Hunter in addestramento. Hai sconfitto il nostro nemico. Valentine avrebbe potuto usare gli strumenti mortali per evocare Raziel, ma tu gli hai impedito di esaudire il suo desiderio. Clarissa Fairchild, che il tuo eroismo possa essere di fulgido esempio per tutti gli Shadow Hunter del mondo. Congratulazioni. Congratulazioni. Ti ringrazio. Come è stato? Doloroso. No, è stato magnifico, ma anche imbarazzante con tutte queste persone intorno. Non sentirti in imbarazzo, sei l'eroina di Alicante. Hai lottato contro Valentine e l'hai ucciso, quindi non fare la modesta. Vado a cercare la mamma. Ok. Hai fatto una cosa incredibile, ma c'è dell'altro, vero? Ti ho detto quello che so, Alec. Sul serio. Ho sentito la morte di Chase. Dice di non conoscerne il motivo, ma io so che mente. Magari hai sentito che veniva trafitto, era gravemente ferito. La mia runa para batai è scomparsa. Questo come lo spieghi? Io non lo so. Chase è vivo. È la cosa più importante. Già.